Il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, visitando il Parco Archeologico del Colosseo, ha evidenziato come l'Italia debba puntare sulla cultura che rappresenta il suo oro nero. Ascoltiamo la sua dichiarazione. Essere qui oggi significa pensare alla rinascita del nostro paese proprio attraverso questo grande patrimonio che abbiamo culturale. Con la cultura si mangia perché è il nostro petrolio. Noi non abbiamo materie prime, noi abbiamo soltanto la cultura. E' da qui che dobbiamo partire per la rinascita del nostro paese. Fedeltà o tradimento è il tema che ha portato al successo del film Gli Infedeli con un cast corale guidato da Riccardo Scamarcio e Valerio Pelletti.